Si chiama Casa 33 perché più che una squadra di calcio è una vera e propria casa per le persone in difficoltà. Lo scopo è quello di fare del bene, di aiutare, di divertire e forse anche di distrarre dai tanti problemi della vita attraverso un calcio ad un pallone per uno sport sempre più sociale, dove la parola squadra assume un significato ancora più profondo. Casa 33 è nata lo scorso anno e siamo un'associazione. La nostra idea è attraverso lo sport aiutare le persone. Abbiamo una squadra di calcio che gioca in terza categoria. Quest'anno abbiamo creato anche la squadra di calcio 5 perché i ragazzi ci hanno contattato in tantissimi e siamo arrivati fino a 38. Quindi proprio la nostra idea è dare la possibilità a tutti di far parte di una squadra. Credo che sia una cosa molto importante questa. Questa associazione vuole cercare di aiutare alle persone che fanno parte appunto di Casa 33 in vari modi. Ad esempio abbiamo creato anche delle lezioni di italiano e stiamo cercando di aiutare alcuni ragazzi che cercano casa, lavoro. Cerchiamo di fare tutto quello che si può per dargli una mano, non solo in campo ma anche fuori. Casa 33 deriva dal nome di due persone. La CLA sono le iniziali del Beato Carlo Acutis, mentre la SLA di Sara, una mia amica che è andata in cielo un po' di tempo fa. Il 33 è un numero importante che mi segue da tanto tempo. È stato un caso ma secondo me non è mai un caso. E proprio questo nome, Casa 33, noi abbiamo la speranza che tutte quelle persone che si avvicinano a Casa 33, che fanno parte di Casa 33, si sentano proprio a casa, si sentano in famiglia. Credo che sia questa la vera bellezza proprio di Casa 33. E poi c'è l'appello lanciato da Alex per sostenere l'associazione e le sue iniziative affinché Casa 33 continui ad esistere e ad essere sempre più grande, sempre più accogliente. Noi siamo contentissimi di tutte le persone che si stanno dando una mano perché noi viviamo di donazione, quindi qualsiasi donazione per noi è importante. Ad esempio diverse persone ci danno una mano a livello economico, alcune persone ci danno una mano donandoci le scarpe, i palloni, le casacche. Alcune persone invece, ad esempio come il signor Leonardi, il signor mister Fulvio Giovannetti, Azzolini, ci danno tante volte una mano proprio nei consigli di campo, tattici e gestionali. Quindi ogni persona per noi è fondamentale, qualsiasi cosa per noi è tanto importante. Pensare che, spesso dico e mi piace ribadirlo, spero che tante persone imparino, inizino a vivere Casa 33.